Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignan. In A1 si registrano code per traffico intenso in direzione Roma tra Aglio e Calenzano e tra il bivio A1 e A11 e incisa Reggello. Sempre in direzione Roma, cola per traffico tra il bivio A1 Variante e Aglio. Ricordiamo che l'area di servizio Migliarino Sud in A11 in direzione Firenze è chiusa per lavori con riapertura prevista per il 22 agosto. In FIPI lì si registrano code provenendo da Livorno all'uscita Vicarello. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze possibili disagi in direzione Siena all'altezza di località Plumiano. Si registra un incidente a Firenze in via di Scandici al civico 84 tra via Marcovaldo e via del Filarete. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie! 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 Grazie!